Allora ragazzi bentornati, finalmente ci siamo per il pagellone di questa serie A 2020-2021 mi dà lasciare tantissimi piace per questo tipo di contenuti e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per tutti quelli che arriveranno in questi giorni tutte le notizie di mercato che si susseguono una dietro l'altra quelle ufficiali chiaramente non le voci altrimenti dovremmo fare un video ogni due minuti praticamente dovrò dare un voto alle squadre relative solamente alla serie A quindi senza prendere in considerazione trofei, uscite da coppe e altre situazioni varie o meglio è chiaro che se una squadra non gioca le coppe o se una squadra come il Milan o come la Roma vanno avanti per più tempo è chiaro che tengo in considerazione il dispendio di energie che comporta la doppia competizione, solo questo chiaramente poi i voti oltre che alla forza in sé per sé della squadra saranno visti anche dal mio pronostico iniziale da quello che pensavo potesse essere la stagione di una squadra in particolare senza perderci in chiacchiere, partiamo dal voto più basso io mi metto anche la classifica di fianco il voto più basso comunque l'ho riservato al Parma e ovviamente sarà un voto zero voto zero al Parma Parma ragazzi che l'avevo detto che poteva avere qualche difficoltà col cambio di allenatore da Versa a Liberani perché troppo repentino sono uno all'opposto dell'altro tatticamente i giocatori erano rimasti più o meno gli stessi anche qualcuno in meno il Parma poi ci ha messo del suo perché 20 punti solamente hanno incassato una marea di gol hanno perso partite veramente in modo brutto scialbo senza anche particolare impegno quindi Parma malissimo come di peggio non si poteva fare andrò a salire con i voti e un gradino un po' più su o meglio 4,5 gradini più su perché voto 4,5 lo do a tre squadre Benevento, Torino e Juventus già mi sembra di sentire in lontananza gli insulti però sì ragazzi allora il Benevento c'è poco da dire girone d'andata 22 punti girone di ritorno 11 mi sembra sì ha chiuso a 33 si è suicidato il Benevento quindi girone d'andata strepitoso poi c'è da dire che a differenza del Parma per esempio se la sono bene o male sempre battagliata con le squadre poi evidenti limiti secondo me tecnici dell'allenatore fanno sì che il Benevento si porti questo 4,5 a casa e la retrocessione 4,5 sì anche al Torino seppure si sia salvato con 4 punti sopra il Benevento Torino che sicuramente non è quella la lotta che gli compete ma soprattutto il Torino si è salvato semplicemente per demeriti degli avversari e non per meriti suoi un po' lo stesso discorso che farò per la Juventus comunque in generale Torino malissimo 4,5 sono stato anche buono Juventus stesso discorso del Torino sì la Juventus va in Champions League ma ci va per evidenti demeriti degli avversari non per meriti suoi perché la Juventus non meritava la Champions League così come il Napoli non la meritava quanto Milan e Atalanta secondo me per l'andazzo della stagione sta di fatto che il Napoli con la Champions in tasca si suicida all'ultima giornata e regala la Champions alla Juventus praticamente non si può gioire per una squadra che viene da 9 titoli consecutivi per una qualificazione di Champions ripeto più per demeriti dei avversari che per meriti tuoi voto 5 invece alla Roma non ho voluto punirla eccessivamente con il 4,5 la Roma che secondo me è tutto sommato ovviamente parlando della metà della prima metà del campionato ha fatto una buona stagione poi si è concentrata e ci può anche stare sul cammino europeo che non è andato come si sperava però per veramente episodi in questo caso Roma che è stata protagonista di molti infortuni quindi io non me la sento di colpevolizzare chi sa quanto la Roma è arrivata settima è riuscita a tenere il settimo posto con il Sassuolo che era lì dietro insomma a dare fastidio sempre di più l'arri ha guantato a 5 minuti praticamente dalla fine della Serie A in quel caso sì sarebbe stato un 4,5 un punto vale mezzo voto sì sì in un campionato così combattuto e così pieno di stravolgimenti sì un punto vale mezzo voto voto 5 alla Roma saliamo di mezzo voto e andiamo agli appena insufficienti i 5,5 ne ho messi 3 Fiorentina Cagliari e Crutoni anche lì non ho voluto punire se è veramente il Cagliari perché innanzitutto ha fatto poi un bel filotto di risultati positivi ma poi il Cagliari veramente io ne ho viste tante di partite col Cagliari tante sconfitte anche immeritate tanti pareggi che non sono tramutati in vittorie veramente per pochissimo una squadra che comunque l'anima in campo l'ha sempre data e mi è piaciuto il gesto di riconfermare di Francesco di rinnovargli il contratto poi non è andata a un certo punto bisognava cambiare hanno avuto anche quel coraggio quindi dopo il rinnovo di cambiare guida tecnica l'hanno fatto con successo non prendendo l'ultimo arrivato bravo semplici chiaramente la sufficienza non può essere perché questo è un organico che non dico che può ambire alla parte europea ma alla parte sinistra può ambire può almeno lottarci voto 5 a mezzo anche al Crotone perché le aspettative erano queste ragazzi erano queste la sufficienza no ma insufficienza grave non ci sarebbe motivo di darla questa squadra non era attrezzata per fare la Serie A parliamoci chiaramente e hanno anche gettato il cuore oltre l'ostacolo hanno fatto parecchi record negativi vedi quello delle reti subite però ci hanno provato ci hanno provato ci hanno messo tutto quello che potevano metterci io non mi sento di inferire ecco sul Crotone la Fiorentina da 5 e mezzo forse meritava anche qualcosina in meno record negativo di punti dal post dal post fallimento sì ci sono state tanti fattori in casa Fiorentina che non hanno funzionato la Rosa secondo me è molto molto competitiva hanno scoperto anche Blauic l'errore è stato a monte di riconfermare Iachini perché Iachini è un allenatore che ti fa questo non ti fa retrocedere ma non ti fa andare oltre è un allenatore da salvezza è chiaro lo sanno tutti io giustifico questa cosa con una sola motivazione c'è stato poco tempo tra la fine della passata stagione e l'inizio di questa quindi comprensibile la scelta di riconfermare il tecnico in corso che comunque non aveva fatto male non c'è stata la possibilità di fare salto di qualità ci stanno provando già da adesso hanno preso Gattuso per lottare sicuramente per delle zone europee vediamo poi se ci arriveranno o no però io alla luce di tutte queste cose anche qui non voglio colpevolizzare 5 e mezzo per la Fiorentina veniamo ai 6 che ne ho dati 2 Lazio e Genoa allora Lazio per me perfettamente in linea col percorso che doveva fare in una stagione dove si è giocato ogni 3 giorni non puoi pensare con solo 11 titolari di lottare per qualcosa che vada oltre l'Europa League sarebbe stato un miracolo ragazzi è sufficiente è in linea con i presupposti secondo me chi pensava la Champions sognava per me era anche da 6 e mezzo perché comunque è stata in lotta per la Champions fino a qualche giornata della fine non l'ho mezzo punto in più semplicemente perché a gennaio si era capito che c'era da intervenire in un determinato modo si è intervenuto prendendo forse dei giocatori peggiori di quelli che già c'erano quindi per questo tolgo un mezzo voto e do un 6 alla Lazio 6 anche al Genoa che probabilmente sarebbe anche da 6 e mezzo qualcuno direbbe anche da 7 per me è 6 sufficiente perché il campionato che era in linea con quello che mi aspettavo ecco magari mi aspettavo 4-5 punti in più a fine campionato giusto sotto la cinquantina invece sono arrivati 42 punti probabilmente sono qua quei 4-5 punti rubati tra virgolette da Marana in inizio stagione però il concetto della sufficienza streminzita è perché ogni anno si deve cambiare guida tecnica giocatori dirigenti e così puoi prendere chi vuoi tu perché poi sono arrivati vari Strootman c'è Crescito c'è Perin c'è Rovella c'è Zaic c'è Scamacca c'è Shomurodo sono tutti giocatori molto molto buoni ma può arrivare chiunque devi dare continuità non puoi cambiare in continuazione giocatori allenatori è chiaro che il risultato è questo alla fine si merito a Ballardini Ballardini ha fatto un miracolo perché ha preso una squadra a 7 punti e l'ha portato a 42 quindi bravissimo Ballardini ma più di 6 non me la sento di dare e saliamo saliamo andiamo verso le vette più alte 6 e mezzo per Bologna e Napoli 6 e mezzo per il Bologna perché mai fondamentalmente in rischio retrocessione poteva fare qualcosa in più secondo me ma poteva anche fare qualcosa in meno bene o male hanno sempre detto la loro hanno sempre dato fastidio si sono salvati con largo anticipo nonostante non abbiano un organico di chissà quale valore hanno delle individualità molto buone hanno lanciato anche dei giovani vedi Vignato 6 e mezzo va bene così 6 e mezzo al Napoli perché allora il Napoli l'avevo pronosticato quinto quindi poi faremo anche la reaction al mio pronostico inizio anno però nel frattempo non è questo il punto il punto è che il Napoli forse secondo me meritava anche 7 ha fatto una stagione ottima secondo me perché ha giocato praticamente due mesi nei due mesi clou con solo 10 giocatori contati con Paitania centroavanti poi c'è stato il silenzio stampa insomma situazione societaria non gestita poi benissimo con l'allenatore e tutti i contorni quindi secondo me Napoli inteso come squadra quindi lasciando stare i discorsi societari squadra allenatore hanno fatto quello che che potevano e chiaro in caso di vittoria con il Verona avrei dato un 7 e mezzo anche un 8 probabilmente però se ti ti sgretoli in questo modo più di 6 e mezzo non ti posso dare ma neanche di meno assolutamente per il campionato che hai fatto per la grande rincorsa che c'è stata voto 7 al Verona di Giuric invece qui forse qualcuno mi criticherà ma ragazzi ricordiamo che il Verona ha perso Pessina ha perso Amrabat Ramani Kumbulla lo satura praticamente dell'anno scorso Giuric è riuscito a inserire giocatori validi è riuscito a farli rendere si parla di un Verona che ha fatto molto bene secondo me non ha fatto benissimo quanto poteva perché a un certo punto della stagione seppur come dice Giuric le partite se le si erano giocate sta di fatto che da un certo punto in poi hai smesso di fare risultati positivi se non 4-5 occasioni quindi più di 7 non ti posso dare ma neanche meno perché il Verona secondo me rimane un organico che al di là di qualche individualità che spicca vedi Di Marco vedi Lazovic vedi Silvestri Zaccani sicuramente ma più di questo è una squadra discreta e niente più quindi merito al Verona per quello che ha fatto voto 7 saliamo ancora ancora e ancora per il 7 e mezzo di Udinese e Sampdoria allora l'Udinese forse avrei dato anche 8 non do 8 solo perché nelle ultime giornate sono un po' caduti a livello di risultati ma ragazzi l'Udinese io l'avevo messo tra le tre retrocesse al terzo e ultimo posto e fondamentalmente l'organico è su quella linea lì a parte Musso e De Paul che sono due non buoni giocatori ma top player sono giocatori da squadra di Champions League a parte loro veramente poco o nulla si ritrovano a giocare davanti con Okaka con Forestieri veramente gente impresentabile e non me ne vogliano non sia un'offesa quindi secondo me il miracolo Gotti si è ripetuto come nell'anno scorso così anche quest'anno bravo Gotti Udinese salva praticamente a gennaio e in pochi l'avrebbero detto al di là se poi uno pensa alla retrocessione o meno 7.5 anche la Sampdoria più o meno per lo stesso discorso non perché la Sampdoria dovesse retrocedere anzi campionato tranquillo ma la Sampdoria ha fatto qualcosa in più del campionato tranquillo grazie a un grande mister perché se è vero che dal reparto di centrocampo in su è un'ottima squadra con Damsgaard Keita Quagliarella Berre Candreva dal centrocampo in giù è una squadra normalissima da salvezza tranquilla e anche qualcosina in meno Ranieri ha saputo valorizzare anche questo aspetto della Sampdoria facendo la chiudere a 52 punti al decimo posto nella parte sinistra della classifica 7 e mezzo meritatissimo passiamo all'otto un po' per caso ci capitano le squadre del bel gioco ovvero Spezia Atalanta e Sassuolo allora lo Spezia ragazzi lo sapete io di italiano ormai sono innamorato io lo Spezia l'avevo pronosticato all'ultimo posto in classifica lo Spezia che si salva con una giornata d'anticipo ma io almeno non l'ho mai sentito realmente in pericolo lo Spezia una squadra che ha dato fastidio a chiunque è andata a giocare contro chiunque dando fastidio contro la Juventus contro il Milan facendo punti contro il Napoli facendo punti contro l'Atalanta facendo anche punti forse all'andata ora mi sfugge veramente sempre ben messa in campo sia tatticamente che mentalmente con una squadra molto molto modesta poi dei giocatori abbiano reso oltre le aspettative consentitemi di dirlo e credo per un 90% merito dell'allenatore bravissimi bravo l'italiano bravo lo Spezia 8 ripeto anche per il Sassuolo poteva essere un 8 e mezzo ma io do 8 lo stesso a pari ponti con la Roma all'ottavo posto per due gol non arriva alla Conference League il coronamento sarebbe stato il coronamento di un di un progetto che però nell'arco della stagione ha visto caputo praticamente assente per tre quarti della stagione Boga stessa cosa Berardi è stato fuori due mesi non ditemi che con loro non potevano fare due gol in più io non credo quindi Sassuolo Sassuolo ha fatto un grande campionato più di questo non poteva fare secondo me bravissimi bravo De Zerbi buona fortuna per l'avventura allo Shakhtar 8 anche per l'Atalanta hanno un 8 e mezzo perché secondo me in troppe occasioni hanno abbassato i ritmi a un certo punto potevano veramente diventare pericolosi anche per lo Scudetto non l'avrebbero vinto però avrebbero fatto un po' qualcosina in più perdono anche il secondo posto l'ultima giornata contro il Milan in uno scontro diretto l'Atalanta non è una sorpresa quindi non è più una favola a cui se il terzo posto va dato voto 10 l'Atalanta è una realtà è una big molto di più di come lo sono attualmente altre realtà pseudo big quindi l'Atalanta per me 8 tendente all'8 e mezzo ma rimaniamo sull'8 all'8 e mezzo non ci passiamo proprio andiamo direttamente al 9 il 9 del Milan il 9 del Milan che ragazzi Champions dopo 10 anni praticamente ma la discriminante del Milan è veramente le catombe che hanno avuto nel corso della stagione addirittura peggiore di quella del Napoli perché è stata continua è stata veramente ne rientrava uno e ne usciva un altro a livello di infortuni hanno giocato con le auce entra avanti con Calabria davanti la difesa cose che veramente immaginarle non era possibile è stato bravo l'allenatore è stata brava la squadra perché tutti sono entrati in campo sempre motivati convinti con cattiveria nel frattempo sono andati avanti anche in Europa finché hanno potuto sempre complici le assenze Milan che chiude al secondo posto seconda forza del campionato era stata la prima per molto tempo quindi 9 al Milan e 9 e mezzo all'Inter non do 10 do 9 e mezzo 9 e mezzo all'Inter perché è vero che vinci lo scudetto in scioltezza però devi considerare che la Juventus è sparita quindi avversarie concrete non ce ne sono state se non il Milan nella prima parte di stagione e dopo l'uscita dalla Champions sei praticamente obbligato a vincere lo scudetto l'Inter era obbligata sento anche parecchi tifosi interisti che l'hanno detto l'Inter era obbligata non prendiamoci in giro non più di 9 e mezzo per questo ma non meno di 9 e mezzo perché comunque anche e soprattutto per l'andamento ha avuto dopo la vittoria dello scudetto è una squadra che ha dimostrato di avere anche nelle seconde linee degli elementi importanti e soprattutto è come se si fosse liberata e questo la dice su quanto il gruppo sia stato unito a livello di società di tutto per gestire i problemi che ci sono stati quanto l'allenatore si sia reso conto delle mosse da fare per far sì che questa squadra diventasse campione d'Italia perché poi si parla di gioco di non gioco a me questi risorsi non piacciono chi vince ha sempre o quasi ragione in questo caso l'Inter ha pienamente ragione e l'ha dimostrato fino all'ultima giornata complimenti all'Inter e questo era il mio pagellone ragazzi di fine anno fatemi sapere i vostri voti in particolare delle vostre squadre o se c'è stato qualcosa che non vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per lasciare il mi piace se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo con la top 11 del campionato e con altri altri video ormai a ruta libera ciao ragazzi